Mister, trasferta di sabato domani in casa del Giviborgo, una squadra che è in forma, una squadra che è davanti, insomma ha anche dei numeri importanti, c'è anche da vendicare, sportivamente parlando quella sconfitta assolutamente meritata dell'andata, insomma i temi sono tanti di questa trasferta in Garfagnano. Assolutamente sì, gli ingredienti sono tanti, in primis credo che quello più importante è quello a cui io penso costantemente da 10 giorni, 15 giorni ormai a questa parte e che dobbiamo fare punti anche a Giviborgo perché ancora non abbiamo una sicurezza su quello che può essere la quota salvezza e quindi dobbiamo incrementare quello che è il nostro punteggio, lo scorre attuale, questa in primis. Poi ci sono tante altre cose che rendono questa sfida ancora più difficile, il momento del Giviborgo che ha fatto un ultimo mese credo da primissima, dietro l'Arezzo è quella squadra che ha fatto più punti, ha fatto delle vittorie pesantissime contro le prime, ha espresso un bel calcio, tanti gol, dei giocatori importanti, Zini, Ticani, Buongiorno, Buongiorno, Inottoli, insomma una squadra che in questo momento forse la trasferta è la trasferta più difficile assieme ad Arezzo di questo girone. Quindi ci sono molte difficoltà, allo stesso tempo è molto stimolante perché comunque noi veniamo da un buon risultato in una gara di cui si è tanto parlato e quindi vorremmo tornare al calcio giocato e tornare a far parlare di noi per cose importanti sul campo con qualche risultato eclatante come abbiamo fatto diverse volte in questo campionato.